La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre. Queste le parole di Italo Calvino nel romanzo Città invisibili, pubblicato nel 1972 e divenuto uno dei più grandi classici della letteratura italiana. Il liceo Mengaroni, in collaborazione con la biblioteca oliveriana, ha deciso di adottare questo testo per sviluppare un progetto culturale che richiamasse il concetto di identità e di appartenenza alla città di Pesaro. Gli alunni dell'Istituto Mengaroni hanno infatti letto cinque brani presenti nel testo, rivisitandone altrettanti con l'obiettivo di immaginare e creare nuove città popolate dai loro sentimenti e in linea con il loro modo di vedere il mondo. Il progetto nasce da due insegnanti che hanno trovato in comune l'amore per uno scrittore, che è Italo Calvino, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita e ha fatto sì che unire due passioni di pancia, di cuore, di sentimento, possa aver coinvolto anche una delle nostre classi. Le città sono punto di partenza quelle di Italo Calvino, ma sarà un punto di arrivo, ed è il nostro desiderio che lo sia, quelle che visualizzeranno i ragazzi in una forma del tutto particolare, cioè quella che il loro sentimento, il loro sentire appunto darà forma, sia nei materiali che nell'organicità della tavola, se sarà tavola o sarà quello che loro vorranno. Abbiamo voluto proporre anche una rielaborazione del testo di Italo Calvino, delle città invisibili, in modo da dare la possibilità ai ragazzi di riappropriarsi di questo testo in modo personale. Da adolescenti cerchiamo di tirar fuori in loro i loro sentimenti, i loro sogni, le loro paure e in questo devo dire che si sono messi in gioco e hanno affrontato questo progetto proprio con lo spirito del viaggiatore. La città è un argomento, è un tema su cui si è riflettuto da sempre, cioè la città è il luogo degli scambi, è il luogo del confronto, in qualche caso è il luogo anche dei conflitti e delle problematiche. E vedere anche come tutti questi temi si sono sviluppati e sono stati anche affrontati nel corso dei secoli, penso che possa essere interessante anche per i nostri giovani ragazzi. È un progetto dell'Iceo Mengaroni, delle professoresse del Mengaroni che hanno pensato di far conoscere ai ragazzi questo testo, insomma le città invisibili di Calvino e di rielaborarlo secondo le loro potenzialità. Però in realtà è anche un progetto che nasce questa mattina perché è una collaborazione che si sviluppa, che parte proprio oggi tra Mengaroni e Biblioteca Oliveriana perché magari chissà in futuro potrebbe anche essere che si potrà immaginare anche una, non so, un'esposizione o comunque un'elaborazione ulteriore che metterà in confronto le città invisibili di Calvino anche con dei volumi contenuti e proprio seduti dalla Biblioteca Oliveriana che raccontano e descrivono comunque le città in altri tempi e in altri modi.